Ti volevo chiedere, visto che adesso siamo nella settimana di Sanremo, in questo stile di vita artistica, come si inserisce fare Sanremo per te che sei un artista che viene dall'indie, dalla musica alternativa, fa musica per vent'anni e poi a un certo punto fa il festival di Sanremo, che invece è il festival più importante in Italia, la cosa più importante in Italia, tralasciando il festival 2020 che è deragliato, quello è il 2021 che invece l'hai fatto? No, però voglio sapere se è bello fare Sanremo, cioè... Molto! Sì, lo fai e dici che è bello, faccio Sanremo, sono contento. Adesso dico una cosa che ho anche detto più volte e quindi ho l'opportunità per ripetirlo, io ho fatto il primo disco nel 2000, nel 2002 ho fatto il mio terzo album che è il primo con Universal, quindi è stato il mio passaggio da locale a nazionale, no? È il disco con Mi rompi i coglioni e Casalingo e l'Universa subito ti dico, no, come fa Sanremo? Pensando, ma no, no! Io gli ho detto, cazzo dai ragazzi, cazzo, andiamo lì, spacchiamo il culo, dai, io! Io volevo già andare nel 2003 con i Mi rompi i coglioni e quindi pensa, ragazzi, mi ero fatto un mega viaggio, poi alla fine non è andato in porto, anche perché gli artisti non è che sanno tutto fino in fondo, cioè tu puoi anche impegnarti a scrivere, sapere che arrivi fino alla fine, ma non è che poi capisci bene perché ci vedi dentro. Io mi chiedevo, ma perché non ci riesco? A ogni mio album, oppure me lo chiedevano i giornalisti, erano curiosi, no? Ma vabbè, Bugo, Sanremo, cazzo, certo che ci andrei, no? Ma per me è sempre stata un'ossessione, ma solo perché vivo in Italia, non perché mi piace Sanremo. Ad esempio, Sanremo io non ho mai guardato, in vita mia, a casa mia, la musica, tornando a quello che ci dicevamo prima, non è mai stata di casa, no? Quindi mio papà sentiva Hendrix, figuriamoci Sanremo, quella merda lì, cazzo, me ne frega, no? E la televisione a casa nostra non è che si è mai guardata molto, no? Quindi Sanremo non è mai stata una cosa, che figata, mio figlio vuole andare a Sanremo, no? I miei modelli erano altri, però non vivo sulle nuvole, sono italiano e quindi mi sono sempre detto, cazzo, io a Sanremo ci andrei, non ho mai avuto l'atteggiamento snob, in D. Ma no, io non ci voglio andare, non ci ho bisogno, ma non è che tu vai a Sanremo perché hai bisogno, ci vai perché vivi in Italia, e io ho detto, cazzo, io ci vorrei andare, ha detto, figa, la prima volta che ci sono andato mi ha squalificato, pensa voi, ragazzi, non è? Quindi no, però per dire, è sempre stato un obiettivo importante per me, se ti faccio una lista veloce dei tentativi che ho fatto, che non sono andati a buon fine, 2003, 2007, 2012, tentativi concreti, che vuol dire la canzone che la proponi e poi a un certo punto l'artista non sa più come va avanti il dialogo, no? Non è che sono io che parlo con Amadeus per farti capire, no? E sta cosa è arrivata fino al 20, 21, e quindi per me è sempre stata una piccola ossessione per sentirmi vivo in Italia, giusto o sbagliato che sia, al di là del fatto che sia Indio o no. Poi alcuni miei fan di sempre, sta cosa non è piaciuta, ad altri invece l'hanno apprezzata, che se ne frega, cioè io voglio essere me stesso, non voglio, faccio le cose affinché io mi senta bene, no? E alla fine è arrivato il mio primo serremo a 40, cos'è, nel 2010, 2020, avevo 47 anni, a pensarci, cazzo, mi è andata veramente da pensione, non potevo andare in pensione mesi fa a Sanremo, socca, miseria, quella è stata sempre una mia ossessione, e quindi non ti so dire se è giusto o sbagliato, alla fine a quanti fatti è stata anche giusta, quindi è bello, perché con quello che è successo nel 2020 e con quello che poi è successo nel 2021, cazzo che figata, lo rifarei sicuro, assolutamente, allo stesso modo anche, non mi pento di niente, evidentemente nella mia storia, come cantatore, che piaccia o no, doveva arrivare a quell'età lì, in quella modalità lì, no? Non mi faccio troppe domande, però è arrivata, io credo che sia quasi un passaggio, cioè quasi un passaggio obbligato in Italia, per un cantante farlo, non è obbligatorio, ad esempio Amici Cari, Dente, non so se avete presente, lui ha sempre dichiarato che non vuole farlo, Brunori è un altro che non vuole farlo, ed è giusto così, cioè, Andrea non l'ha fatto, diceva io non voglio fare le competizioni, è giusto, ma anche io non l'ho fatto per fare la competizione, cioè l'ho fatto perché, ho detto, cazzo, sarà forse un bisogno infantile, non lo so, sarà una debolezza, non lo so, non me ne frega, niente, cazzo io voglio far Sanremo, e quindi, e il destino ha detto, oh vuoi far Sanremo, con quel coglione, poh, porca miseria, capite, è andata così, è andata, io lo so che è andata così, io scherzo, ma più o meno è andata così, è stato il destino, eh no, ma se ci pensi però, è una narrativa, tutti gli artisti hanno bisogno di costruirsi in una narrativa per essere sani, perché io mi sono chiesto perché mi è successo anche, dove posso aver sbagliato, a me non mi interessa di lui, mi interessa io, dove ho sbagliato, non ho sbagliato, io ho scelto una persona che reputavo amica, con un pezzo giusto, ed è finita così, e come è finita, cazzo, vaffanculo alla grande, cioè io non sono uscito bene, non mi interessa se mi ha squalificato, ma dopo ero ancora lì, cioè per me è stato un motivo di grande orgoglio, evidentemente nella mia storia io non dovevo fare, non dovevo fare un festival normale, cioè, quindi va bene, alla fine, anche qua lo giuro sul mio figlio, lo dico perché a volte sembra che la gente non mi crede, no? lo rifarei identico, non cambierei nulla di quella canzone, di lui, di quello che è successo. Anche perché quella è veramente una bomba di pezzo, io me lo sento, cioè, sincero, è un gran pezzo, me lo sento spesso. Nel podcast poi lo mettiamo su te. Ma qua parte, volevo fare parte subito, certo. Hai mai pensato di invitare Morgan a cena? A cena? Cazzo, questo è bello. Però non dobbiamo dire niente di questo podcast, però, eh. Se ce lo diamo per noi, cazzo, mi hai dato un'idea geniale. Cazzo, mi hai dato un'idea geniale. Porca vera. Poi io non sembro, ma sono vendicativo, cazzo. Cazzo, mi hai dato un'idea geniale. No, perché io sono stato anche tanto tempo zitto su questa faccenda, volontariamente. Ma c'è un motivo semplice perché io sono stato zitto. Perché è arrivata la pandemia. Cioè, non si può fare polemiche in un periodo dove la gente muore. Quindi a fine febbraio, tagliamo corto perché non voglio intrestirvi con la pandemia. Però, cioè, bisogna essere anche fighi, no? Seri. Cazzo, arriva la pandemia, mi metto a fare le scenate in televisione parlando di questa roba e di quel pirna. Non esiste. Quindi ho detto alla mia casa di scuola, fica, silenzio stampi, io non ho più detto niente. Perché era giusto così. Era il mio mondo per dire quasi... Ecco, mi viene in mente ora, sto andando ancora in ruota libera, a Militare c'era quello che c'era Bulletto. Per me era uguale. Era come dire, va, coglione, pezzo del merda. Ma sto coglione. Ah sì, sì, canta, canta. La mia risposta è stato il silenzio. Era come dire, tu per me non esisti nemmeno, no? Però adesso queste idee che mi hai dato... Qua, no, qua ne un po' tagliamo sto pezzo, così me lo tengo io. No, no, scherzo, pubblicate quello che volete. Sì, sì, te lo tieni e poi lo pubblichi come reel dopo la scena. Ma secondo me... E' talmente rincorrito che non capirebbe nemmeno. Non è buco di... Cioè, farebbe così. Non è buco di... Ma è così? Ok, così. Ma che io lo conosco bene, ragazzi. Eh, infatti, posso dire, è una buona imitazione. Cogli la sfumatura giusta. È una buona imitazione. No, ma tu devi pensare che io sono stato l'unico a chiamarlo quando volevano sfrattarlo. Lo volevano sfrattarlo nel 2019, non so se la gente... Non lo sapevo. Ragazzi, se non ricordo. Non sapevo. Nel 2019 l'hanno sfrattato. E siccome io lo conosco, lo conoscevo. Ora non ho più niente a che fare, ovviamente, dal 2020. Non voglio più averci che fare. Non si può perdonare tutto. È da coglioni perdonare tutto. Cioè, non si può fare. Lo devi te stesso. Hai i tuoi fan della tua famiglia. Hai i tuoi collaboratori. È una roba impredonabile per me quella. Però, prima dell'ora, avevo una sorta di simpatia per lui. Perché vedevo che faceva fatica. Tanti anni che non faceva un disco. Quando l'hanno sfrattato, io sono stato l'unico che l'ha chiamato, perché di carattere sono quello che vedete. Quindi, uno che si lega alle persone. E mi spiaceva. Quindi, nella mia testa non mi sarei mai immaginato che lui fosse così malato e tossico. Perché lui era, lo è. Da pensare a una roba del genere. Perché va bene tutto, ma l'hanno spettacolo non esiste per me. Questo è in base, in poche parole motivo per cui ho detto, ma che cazzo, ma questo è scemo? E non ce l'ho andato. Cioè, proprio per dirla in parole molto semplici. Perché poi alla fine è stato semplice. Cioè, non è stato così sovrastrutturato. Perché è vero. Quello che hai visto è pura verità. Non c'è stata nessuna costruzione. Diciamo, l'hai retta bene questa cosa comunque. Qualcun altro si sarebbe magari buttato giù. Infatti, ad esempio, questa è una cosa che ogni tanto ho detto nelle interviste, anche recentemente. la stampa nazionale, chiamiamola così, perché si è divertita a trattarmi come uno scemo, come un mentecatto fortunato, perché è successo quella roba lì. Ma vi rendete conto se fosse successo a un ragazzo più sensibile? Io sono un uomo, no? Però se la stessa cosa fosse successa a un 22enne, 23enne, davanti a quanta gente c'è che ti vede? 10 milioni? Non so quanti numeri faceva, però quella roba, non dico da spararsi, è buono esagerare perché non è il mio... Però, cioè, e poi quando la gente continua... Cioè, io ho un carattere, no? Ma chi non ha quel carattere lì... È tosta. È difficile, no? Quindi, tutto questo discorso mi fa tornare in mente quella cosa del militare che ti dicevo prima, no? I coglioni che con il poterino pensano di... Che poi è un bullismo, a suo modo è un bullismo. Io non lo chiamo bullismo quello che a me è successo perché io ho 47 anni, fa un po' ridere il bullismo tra i 48 anni, no? Però effettivamente lui, se ci pensi, è uno più famoso che fa un atto di soppruso a uno meno famoso. Come lo chiami questo? Più o meno, no? Però io ho il mio carattere. se non c'è quel carattere lì subisci. Sono sicuro perché io stare zitto per due anni e tre anni è stato difficile di avere detti di tutti i colori. Perché? Perché? Ma ne ne dirò di tutti i colori. Ti farò mangiare la merda. Hai capito? Grazie. Grazie.